Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Oggi ho deciso di girare un video per la rubrica parliamo di e in questo caso ho deciso di consigliarvi 5 thriller bar gialli perché non so mai come catalogare un libro quando è un giallo o quando è un thriller comunque che mi sono particolarmente piaciuti e che vorrei quindi consigliarvi ho deciso di escludere a priori Camilla Lekberg perché io la adoro però dato che tutte le volte che salta fuori il suo nome io ve lo dico che la adoro ho deciso di evitare per farvi vedere semplicemente altri titoli che secondo me meritano la vostra attenzione sono titoli che tutti che mi hanno intrigata che mi hanno fatto venire voglia di andare avanti di leggere fino all'ultima pagina e so che insomma tra di voi sicuramente ci sono tanti amanti del genere e potranno trovare nuovi spunti. Cominciamo! Allora il primo libro che vi consiglio è Non è mia figlia di Sofì Hanna ma in realtà vi consiglio direttamente l'autrice nel senso che potete leggere qualunque suo libro o qualunque libro lei abbia scritto la cui trama vi ispiri in questo caso si parla di una giovane donna che ha avuto una bambina da poco e un giorno si allontana da casa e quando torna è fermamente convinta che la bambina che si trova nella sua culla non sia lei quindi non sia veramente sua figlia c'è qualcosa di diverso ma il marito e la suocera assolutamente non concordano con lei le dicono che nessuno può essere entrato in casa e comunque non ci sarebbe alcun motivo per scambiare i neonati e quindi cominciano a considerarla una pazza scatenata ma lei continua imperterrita nella sua convinzione che quella che ha ritrovato nella culla non sia sua figlia questo per farvi capire insomma in due parole la trama io ve lo consiglio e vi consiglio questa autrice perché crea delle trame veramente intricate o meglio non sono tanto le trame intricate quanto la sua capacità di farci sospettare di tutti quindi di farci sospettare di tutti ma alla fine di sorprenderci con un colpevole che non ci saremmo mai aspettati quindi alla fine il fatto che un'attrice ci sape sorprendere probabilmente è quello che cerchiamo in un libro giallo in un thriller perché altrimenti non varrebbe la pena leggerlo inoltre è un'attrice a cui piace avere dei personaggi veramente pazzoidi nel senso che se vi piace anche riscontrare qualche personaggio che all'apparenza è in un modo ma poi dentro nasconde una personalità totalmente diversa quasi un secondo io malato una specie di dottor Jekyll e mister Hyde questa è l'autrice che fa per voi io insomma l'ho trovata interessante ho letto due o tre libri di questa donna e mi sono piaciuti tutti quindi anzi fatemi sapere se avete altri titoli da consigliarmi così che anch'io li possa recuperare il secondo libro che vi propongo è veramente un libro che molti di voi conoscono molto famoso ma che forse non tutti hanno letto perché poi ne è stato tratto un film e sto parlando di L'amore bugiardo o Gun Girl di Gillian o Gillian Flynn come sempre i nomi niente allora in questo caso la storia parla di una giovane coppia di un marito e moglie quindi dove all'improvviso c'è una coppia conosciuta si amavano e tutto hanno costruito una vita insieme poi però qualcosa si è rotto quindi si sono un po' allontanati ma improvvisamente lei, la moglie scompare e tutte le tracce che vengono ritrovate in casa fanno pensare che sia stato proprio il marito a farla scomparire e probabilmente anche ad ucciderla quindi cominciamo a sospettare di quest'uomo che all'apparenza sembra un uomo per bene perché vengono fuori i particolari del loro matrimonio che ci fanno effettivamente sospettare di lui poi il racconto diciamo che è visto da entrambi i punti di vista quindi sia dal punto di vista di lei che dal punto di vista di lui e ovviamente nel momento in cui cambia la visuale cambiano anche le informazioni che abbiamo a disposizione io l'ho trovato un libro molto intrigante soprattutto perché secondo me sono delineate molto bene le psicologie dei due personaggi quindi la psicologia di lui è particolare la psicologia di lei è ancora più intrigante quindi il fatto che i personaggi di un libro vengano descritti in maniera dettagliata anche dal punto di vista psicologico secondo me nei thriller soprattutto è molto importante perché aiutano il lettore a capire il perché di certe scelte di certe decisioni di certe azioni che all'apparenza potrebbero sembrare senza senso insomma è un libro che vi saprà conquistare secondo me anche il film mi è piaciuto ma il libro decisamente di più vi dico soltanto che le ultime pagine le ho lette quando sono andata con i miei con la mia famiglia insomma in macchina a Milano a vedere il musical di Gris al ritorno quindi ero in macchina per l'appunto quindi era tutto buio avevo soltanto la lucina del cellulare e mi sono letta le ultime pagine perché dovevo assolutamente vedere come andava a finire è un libro che ha tanti colpi di scena che vi prendono alla sprovvista e che vi faranno venire voglia ad andare avanti fino all'ultima pagina quindi consigliato il terzo libro di cui vi parlo è una vera chicca e sto parlando di la figlia modello di Karin Slother penso si pronunci comunque allora questo libro non l'ho letto nemmeno da tantissimo tempo ma è una cosa favolosa allora diciamo che il racconto parte da un evento terribile che una famiglia subisce perché il padre di famiglia di una famiglia dove c'è appunto padre e madre e due figlie questo padre è un avvocato che difende i criminali praticamente quindi difende tutti quegli sventurati questi teppistelli o comunque veri e propri criminali cercando di dare loro una possibilità quindi cercando da una parte di salvarli dal carcere o comunque di fargli avere la pena al minore quindi è un uomo che è visto sempre un po' così non benissimo perché appunto è un uomo che difende chi ha sbagliato ok allora a causa di questo suo lavoro ovviamente entra in contatto con persone poco raccomandabili tanto che per motivi vari che poi verranno spiegati nel libro un giorno due criminali si presentano a casa di questa famiglia il padre non c'è c'è solo la madre e le due bambine e ve lo dico perché tanto è nel primo capitolo quindi non è niente di non c'è nessuno spoiler la madre viene brutalmente uccisa e le due bambine vengono portate nel bosco e insomma hanno delle esperienze veramente terribili non dico altro poi vediamo una delle due sorelle da adulta e vediamo come è diventata e come è cambiata la sua vita a causa proprio di quello che le era successo per caso la nostra protagonista si ritrova in una sparatoria in una scuola in un corridoio di una scuola in cui qualcuno insomma spara a due persone uccidendole bene questo è quello che succede lo so che sembra intricato ma in realtà insomma vediamo come questa giovane ragazza questa protagonista affronta non soltanto questo evento brutale che la vede coinvolta nella scuola ma soprattutto come affronta anche il suo passato che forse non si è mai totalmente risolto allora so che dalle mie parole non si è capito tanto ma in realtà il libro è bello proprio perché è tanto intricato c'è che abbiamo la storia di loro da bambine quello che è successo a questa famiglia una cosa traumatica come si sono svolti gli eventi poi vediamo che cosa è successo invece nella scuola e quindi la storia coinvolge altri personaggi e vediamo quali sono i motivi che hanno spinto gli altri personaggi a comportarsi in una determinata maniera quindi è un libro che è carico di avvenimenti carico di personaggi carico di colpi di scena che riguardano una o l'altra vicenda quella del passato o quella del presente ovviamente scopriamo tante cose su personaggi che non avremmo mai detto sarebbero stati così e soprattutto abbiamo fretta di arrivare alla fine perché ogni tanto tra i capitoli ritorna il racconto di questa prima serata fatidica in cui ruppero in casa delle due bambine questi due criminali ma ogni volta che viene raccontata c'è qualche particolare in più che ci spinge a cambiare visuale io spero con le mie parole enigmatiche di avervi incuriosite e indurvi a leggere questo libro l'ha letto prima il mio babbo e l'ha adorato perché appunto me l'aveva regalato a me il maritino per Natale e poi lo ha ridato a me e io me lo sono letto tutto in un fiato è un libro da leggere tutto in un fiato perché è talmente pieno di avvenimenti di particolari di personaggi che non potete leggere due pagine e poi lasciarlo per una settimana perché avete voi da andare avanti ma soprattutto la mente deve rimanere concentrata su quello che sta succedendo un libro che poi comunque non guardate là è cicciotto ma in realtà non è che sia scritto proprio piccolissimo quindi si legge molto bene c'è anche caso che esista la versione economica adesso e non in copertina rigida super consigliato è veramente uno di quelli che poi non toglierete più dalla libreria terzo libro che vi consiglio è Era il mio migliore amico di Gillie Macmillan allora in questo caso la storia parla di due giovani ragazzi un ragazzo somalo e un ragazzo inglese amici da tanti anni purtroppo viene ritrovato il corpo del ragazzo inglese in un fiume quindi annegato in un fiume e il ragazzo somalo l'ultimo ad averlo visto vivo si chiude in un silenzio totale questo ovviamente scatena la nascita di sospetti nei confronti dell'amico somalo ma soprattutto un caos mediatico dovuto al fatto che ovviamente è coinvolto un ragazzo straniero in un crimine anche questo libro ve lo consiglio perché sa sorprendere nel senso che non è niente come vi aspettereste ma soprattutto la storia non è soltanto concentrata su questo singolo avvenimento ma anche sulla storia di due famiglie che hanno vissuto delle determinate esperienze che poi hanno portato a questo epilogo quindi con la morte di questo ragazzo quindi la cosa bella è probabilmente questa c'è un detective che indaga sì però e non è lui il vero protagonista i protagonisti sono i membri delle due famiglie e soprattutto il racconto della storia dell'amicizia tra questi due ragazzi in modo che anche noi possiamo comprendere il background ok dei due protagonisti tra virgolette e capire anche l'epilogo che ha avuto questa vicenda quindi poi ovviamente ci saranno sorprese anche sulle storie passate dei personaggi sulle vicende vissute e soprattutto della famiglia Somala che a mio avviso risulta quella più interessante io ve lo consiglio questo libro perché è sorprendente perché va controcorrente perché sa farci riflettere sul fatto che niente è come sembra l'ultimo libro che vi consiglio in realtà non è perfetto ma è uno di quei libri che non riesci a smettere a chiudere non riesci a smettere di leggere quindi ve lo devo consigliare sto parlando della moglie imperfetta di B.A. Paris ma l'autrice ha anche scritto La coppia perfetta che è un altro libro che ho letto il primo che ho letto dell'autrice poi mi è stato regalato questo quindi in ogni caso potete leggere uno o qualsiasi dei due perché sono entrambi diciamo uguali sempre del genere che non riesce a chiudere il libro però in questo caso avevo questo insomma tra le mani vi parlo di questo La moglie imperfetta praticamente parla di una coppia che vive in una casa un po' isolata praticamente la moglie un giorno tornando in macchina durante un temporale sorprendente trova sul ciglio della strada una macchina ferma con una donna al suo interno però col fatto che sta piovendo addirotto non ha voglia di fermarsi insomma di avere altri ritardi perché vuole tornare a casa decide di andare a casa e non pensarci dicendo qualcuno si fermerà ad aiutarla se ha bisogno il giorno dopo però quando si sveglia scopre che la donna che ha visto in macchina è stata ritrovata morta quindi lei si comincia a sentirsi tremendamente in colpa perché pensa se io l'avessi aiutata non sarebbe morta quindi prima di tutto è passata sulla scena del crimine pochi minuti prima che avvenisse il crimine comincia ad avere paura che qualcuno la possa aver vista magari proprio l'assassino e comincia a ricevere delle telefonate molto strane si sente sempre osservata quando è in casa comincia a avere dei vuoti di memoria non ricorda di aver fatto delle cose non ricorda come funzionano determinati oggetti determinati elettrodomestici in casa sua e così via e suo marito ovviamente comincia a notare queste cose e a pensare che sua moglie stia completamente impazzendo guardate vi giuro che già dalla trama lo capite che questa storia è intrigante allora che cos'è che secondo me ha dei difetti secondo me questa è una storia che approfondisce il giusto la psicologia dei personaggi è un po' l'opposto di quello che vi dicevo parlando della coppia perfetta lei è così è una notrice che riesce a scrivere delle storie molto intriganti molto chiarite voglia proprio di andare avanti perché oddio devo sapere cosa succede però non è non è che approfondisca tanto la psicologia e secondo me quando si parla di personaggi cattivi bisogna farlo perché bisogna capire cosa c'è dietro a una mente malata o comunque approfondire di più ecco una mente malata questo ovviamente vale per tutti i personaggi ma ha maggior ragione per quelli cattivi che magari sono più distanti da noi e quindi siamo più incuriositi e abbiamo voglia di capirli quindi io ve lo dico questo piccolo difetto perché è una cosa che ho trovato io ma in realtà la storia è veramente carina quindi è una di quelle che dovete andare avanti e non riuscite a chiudere le pagine perché ogni capitolo vi fa venire voglia di proseguire fatemi sapere se l'avete letta perché voglio conoscere anche le vostre opinioni bene ragazzi il video finisce qui spero che vi sia piaciuto spero soprattutto abbiate trovato nuovi spunti di lettura e anzi consigliatemi voi dei bei trailer da poter raggiungere alla mia piccola collezione e niente noi ci vediamo come sempre prestissimo con un altro video ciao 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 ciao